Cosa c'è? Ho la nausea. Prima ha detto che le faceva male la schiena. Da 1 a 10, quanto è forte il dolore? 5. Come possiamo sapere se è vero? Non possiamo, divertente, eh? Si giri su un fianco. Il segno di Gray Turner. Fine dei giochi. Il pancreas secerne sostanze che danneggeranno gli organi circostanti. Lei deve saperlo. Il medico che ha fatto la diagnosi le avrà detto cosa sarebbe successo se non si fosse curata. Su, diglielo. Se sanno quello che hai, ti potranno curare. Quanti progetti abbiamo fatto insieme? Tu sei sempre preoccupato. Hai mai sbagliato a fidarti di me? Ti ho mai mentito? Come puoi credere che io possa mentirti su una cosa tanto importante? La cisti pancreatica che abbiamo drenato è tornata e a lei non interessa affatto. Credi davvero che voglia suicidarsi? Vorrei, ma come può essersi causata la cisti? Il tox screen è negativo e non c'è segno di traumi. C'è un'altra spiegazione. Lei non reagisce non perché voglia morire, ma perché sa che non può farci nulla. Qualunque cosa abbia è fatale. Questo restringe il campo. La città è un'altra spiegazione.